Qualcuno si è reso conto che abbiamo i nostri cittadini che vanno a cercare da mangiare nell'immondizia? Qualcuno si è reso conto che quando si dà a qualcuno qualcosa, a chi magari ha contribuito una vita pagando le tasse, lui stesso o la propria famiglia viene abbandonato, che si crea questo disagio? Qualcuno se ne rende conto? Oppure dobbiamo fare i boniti? Sì, ma nel frattempo l'orologio va avanti, Federica, da sabato 6.500 sbarchi e se non li ferma nessuno, continueranno... No, no, non li ferma nessuno. L'Italia, scientemente, non vuole fermarli. Perché mi dite perché questi numeri non ci sono negli altri paesi europei? Non so come fare a fermarli, però, amico mio, come li fermi? Perché in Spagna non ci sono questi numeri. Noi abbiamo fatto una proposta, il blocco navale, che se non volete chiamarlo blocco navale perché non piace. Cioè, un blocco navale è una cretinata. Non si può fare, l'abbiamo chiesto a fior di ammirati, in generale, tecnici. Andiamo avanti con questa leggenda. No, Federica, lo sa meglio di me, la cosa è andare in Libia e bloccare le coste della Libia da cui fattano tutti questi ragazzi. Allora, se volete ve lo spiego perché noi non è... Allora, noi, a differenza di migliore che dice con la soppidaggia, noi siamo informati con chi si occupa di difesa e di diritto internazionale. Il blocco navale, semplicemente, è il blocco di navi sul confine delle acque internazionali. Se succede qualcosa, un'embargazione, a quel punto, dentro le acque libiche, perché tu presidi l'acqua internazionale, il diritto internazionale cosa ti dice? Che vai a salvarlo, lo curi e lo riporti su territorio libico. Quindi metti i piedi sulla Libia. Lo curi e lo riporti là. Ovvio, no, dobbiamo... Allora, ho capito, ma come c'è l'Imbia in Libia? Quindi abbiamo... Portando il diritto internazionale lo prevede, non la Lega Nord. I nostri militari devono andare con l'ONU in Libia. No, ma non lo scorda adesso. Il diritto internazionale prevede. Va bene. Se si salva la barca in acque libiche, si riporta su costa libica, punto. Non la Lega Nord. No, ma non la Lega Nord.